Chi è Gesù Cristo per me? La cosa più segreta dove ognuno è quello che vuole essere, che desidera essere, che si trova ad essere, dove gode e soffre, gode per quel che è, soffre per quel che vorrebbe essere. Perché Gesù Cristo significa per ogni coscienza umana, per ogni coscienza di cristiano, non appena il Salvatore, il Redentore, ma via via che cresce la vita diventa un po' come sponsor da sponsa, cioè non appena il Protettore, il Maestro, ma diventa il bene e ci si accorge poi di essere il suo bene. A questo punto è un rapporto non è soltanto di discepolo, non è soltanto di un salvato, ma è un rapporto di intenso amore, di appartenenza, di un godere insieme, di un patire insieme, di godere per l'altro, di godere per l'altro, di lasciar trasparire l'altro, di dissetarsi e assetarsi sempre di più. E dunque allora è tutto un mondo intimo che è bene pertenere per sé, visto che è un po' un bene geloso. Se però forse mi è più facile così dire, dire a questo punto a ritroso che cosa è stato, cosa è accaduto, come ci siamo incontrati, come ha potuto penetrare, come ha potuto un po' attrarmi o incantarmi. Dirò allora a questo punto che il discorso di Gesù Cristo è che ama in causa l'intera Chiesa. Non l'ho incontrato come Paolo, tu per tu, io l'ho incontrato in una comunità che già lo possedeva, che già ne era illuminata, ne traspariva tutta intera. L'ho incontrato negli occhi di mia madre, nella sua anima, nell'atteggiamento di mio padre, l'ho incontrato nella prima liturgia domenicale, nella catechesi. Poi via via, in seminario, dove è stato tutto così, è un lavoro di penetrazione, o meglio di compenetrazione. Ma stranamente forse il momento che più è stato decisivo per me è l'incontro, prima di tutto con la campagna, con la natura. Sembrerebbe strano, ma invece è vero. Credo che l'incontro con Cristo non è appena col figlio di Dio che è venuto a salvarci, il riveletore e il redentore. È anche il creatore, è quello che permette del quale tutte le cose furono fatte. Io trovo, nella mia vita personale, ma poi anche come parroco, educatore e poi il vescovo, trovo che l'incontro con Cristo Signore è tanto aiutato da una sanità profonda, dalla mente e dall'animo che in fase di fanciullezza abbia goduto della natura, abbia goduto di tutte le cose belle che ci sono, abbia goduto dell'essere al mondo, abbia goduto di poter usare gli occhi per vedere, che si sia reso conto di quanta armonia c'è nel creato, di essersi reso conto che gli occhi sono fatti per la luce, la luce per gli occhi e così quel suono per gli orecchi e così il palato per il cibo, i polmoni per l'aria, l'aria per i polmoni, di tutta questa armonia che esiste e che suppone o lascia intravedere chiaramente un disegno, tutto uno studio, una trama progettata, imposta perché tu possa respirare, vedere, vivere, camminare, donare, nutrirti e poi tradurre le tue energie in donazione agli altri. Questa in aggiunta, la pace della coscienza, quella la fanciullezza dove magari il padre insegnava che la prima cosa che urgeva di più, la cosa che urgeva di più era non tanto il vero danaro, non tanto avere tutto quello che avevano i figli del padrone, ma avere in comprensa la pace dell'anima, un pezzo di pane, la coscienza netta diceva, e la sua rettitudine ci faceva vedere, che c'era un rigore morale, questo convincimento diffuso nella questa grande fattoria dove io vivevo fra i contadini, che la ricchezza vera è quella che dell'anima di ogni atto buono che si compie, del rispetto che sa per gli altri, questo aiuto che di lì veniva in maniera consapevole a guardarsi di dentro, a essere felici di dentro, a sentire che la ricchezza vera che ti fa uomo è quella che nessun altro vede, ma che porti dentro ti dà pace, ti dà serena, serenità per cui anche se sei povero c'è un posto per te nella vita, anzi è questa la vera vita. Infine ancora in quel clima, ancora il pensiero del futuro, mia madre che mi diceva, ragazzo, prima mi diceva, aveva 4 anni, salvati l'anima ragazzo, come un aiuto, come dire, fai attenzione a te, al tuo mondo intimo, è lì che sarai, che dipendi lì, che dipenderà il tutto che sarai, e poi aggiungeva, quando aveva 8 anni, mi diceva, chianti in mente, ragazzo, preparati, che il Signore avrà bisogno di te, questa attenzione al futuro, questo capire che c'è, farmi sospettare che dunque c'era un disegno misterioso che mi riguardava, sicché anche se figlio di povera gente c'era qualche cosa di più grande che mi aspettava, per cui dovevo tenermi pulito, nitido e spingermi a studiare, a smuovere tutte le mie energie, tentando proprio di star pronto ai disegni di Dio. E questo clima dunque allora di una vita povera, ma straricca di misteri, cioè di quel che ancora non c'è, ma che si prepara, ma che verrà, e sentirsi dunque nelle stesse condizioni di Maria, senza accorgersene, insomma, che si mette a disposizione, perché ci sono dei grandi disegni che lo aspettano. In questo percorso, in questo clima sempre dell'infanzia, io lo sottolineo perché è l'età dei grandi, per me è stata l'età fondante, insomma. Questo mi è accaduto un giorno, un fatto che ha deciso tanto di me, per il quale sono tanto grato. Ho incontrato un giorno, proprio mentre stavo pescando, che un contadino che lavorava con mio padre, mi si fa accanto e mi dice, senti ragazzo, vedeva che andavo a servire messa tutte le domeniche, ti verrà mica in mente di fare il prete, vero? Perché devi sapere che sono tutte favole, ma i preti li devono insegnare per mantenere la santa bottega. fu una ferita enorme, come una fioccina nell'anima, che mi ha fatto sanguinare a lungo, però ne è venuta una sfida, una sfida. La sfida è andare in fondo, a loro guardarci dentro per conto mio, fidandomi di mio padre e di mia madre, ma supponendo che potessero sbagliarsi. Dopodiché allora è venuto questo bisogno di prendermi io le redini della mia vita, e lì si giocava il tutto per tutto, e di qui allora ho una grande voglia di essere io, di libertà, di decisione libera. capivo che la vita non era un granché, ma però era una vita, ed era tutto, e dipendeva tutto, se era vero o non vero. E' attorno alla verità di Gesù Cristo allora, che si è decisa poi la mia storia. E sono andato in seminario, ma con questa volontà di guardarci dentro. e allora lo studio è diventato una grande voglia di ricerca, non appena per il puro sapere, ma proprio per poter prendere una grande decisione, pro, contro, senza favore, disposto a buttare via, a scappare lontano, se qualcosa apparisse, che inclinasse tutto. La grande importanza che ha avuto allora per me è il liceo, un momento di grande impegno per lo studio della filosofia, con la fortuna di aver trovato un grande maestro, ha squadarnato un po' tutto il mondo della filosofia, e la conclusione fu che arrivando in teologia ero tranquillo, sicuro, ero al mille, certo al mille per cento della verità di lui, anche perché nel frattempo, mentre io cercavo lui, si vede che lui si è preoccupato prima di cercare me, ho avuto la fortuna in quinto, 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 quinto ginnasio, di vedere arrivare nel nostro seminario un padre, padre Matteo Cromlai, che era un grande apostolo del Sacro Core. Ci ha perso un panorama enorme, e ne venne un gran voglio di incontrare Gesù Cristo, di studiare, di capire, di comprendere. E allora divorai un libro che si chiama, è intitolato Gesù era d'amore, e capì allora che Cristo si offriva però per stabilire un rapporto intimo, profondo, di totalità, insomma. Io ho imparato poi da insegnante che quell'età di 14, 15, 16 anni sono stupefacenti, età magmatiche, età in cui il ragazzo appare distratto a volte, con la testa mezz'ara, all'aria come si dice, però le intuizioni che vengono in quell'età lì sono stupende, afferrano, e se sono poi vere e nello stesso tempo attraenti, allora uno, un ragazzo, trova già subito, si innamora. E questo è l'innamoramento di Gesù Cristo, proprio come verità, come colui che non solo ha la verità della mente, ma che si offre a te per fare qualcosa buono di te, ma stabilire un rapporto di totalità, e allora questo è stato un evento immenso, che ha deciso il tutto, dopodiché non mi è rimasto molto da fare, cioè da lasciarmi un po', un po' così, vivere in questa amicizia, in questa compagnia, con lui, e trovarmi poi nella Chiesa, disponibile nella Chiesa, appena fatto prete, disponibile a, così, a mettere, disponibile al servizio della Chiesa, nell'intento di convinto che, dalla Chiesa che ti ha dato tutto, che ti ha dato Cristo Signore, non gli puoi rifutare niente, e di qui allora mi hanno un po' sballottato, di qua e di là, e riconosco che hanno fatto bene, mi hanno fatto il primo in seminario, il vicerettore del seminario, poi mi hanno dato giù a Roma a studiare, poi mi hanno richiamato, invece, non per insegnare diritto morale, ma per insegnarmi italiano, latino e greco, poi per mandarmi giù, cioè insegnare i primi elementi del latino, al secondo ginnasio, e poi riprendermi di nuovo, nel ginnasio e poi nel liceo, e infine, il giornale, la responsabilità di un giornale, del settimanale cattolico, col quale mi sono trovato poi immerso dentro la grande battaglia degli anni 46, 48, fino al 53, però anche lì mi è servito tanto, il rapporto personale con Cristo, e lo stile di Cristo, cioè della benignità, di amore, di misericordia, questo appassionamento di Lui, soprattutto per le coscienze, e soprattutto questa sua condescendenza, la parola latina che non ha risconto nel linguaggio dei classici greci, esiste soltanto dopo il Nuovo Testamento. Allora mi è parso che dovessi prendermi cura dei più lontani, proprio degli atei, di coloro che non credono, comunque, soprattutto di coloro che avversano la Chiesa, che però hanno bisogno della Chiesa, sicché mi sono trovato lì, in quel compito, a dover polemizzare con gente con la quale, che però avrei dovuto tirare, attrarre nella Chiesa. Ne ho imparato, mi sono proposto allora di usare un stile di amicizia, pur nella fermezza, nella chiarezza della verità, insomma. e sono felice perché l'Università di Laurea pubblicata che non è molto all'Università di Pavia su quegli anni 46-48 hanno osservato proprio che la polemica tra il mondo cattolico e il Partito Comunista nel 46-48 è stato condotto, particolarmente del nostro settimanale, nel clima di amicizia e nel rispetto totale. E io sentivo allora che dovevo scrivere proprio così come uno che ha conosciuto Gesù Cristo e che lo vuole far conoscere. Infine, poi mi hanno mandato parroco a Salso Maggiore e li ho visto a slargarsi un mondo, li ho avuto modo di conoscere la realtà della vita umana, della condizione umana nella pianezza, ore e ore di confessionale ogni giorno, incontro poi anche fuori dal confessionale con persone di tutti i cittadini, dei più poveri ai vari grandi studiosi anche in grandi personaggi i più eminenti della scienza e della cultura e ho imparato ancora una volta un'altra cosa che Cristo è presente ovunque e che ci mette molti anni, molti anni ci mette per arrivare ma spessissimo al prete tocca non tanto di seminare quanto di raccogliere cioè voglio dire io ho avuto incontro con persone che sono arrivate a Cristo all'improvviso sicché io ho dovuto appena riceverle e non avevo fatto niente senza aver fatto niente per loro magari 30-40 anni di ricerca di fatica e poi ecco lì sono lì una luce li ha illuminati di dentro se che io posso testimoniare che Cristo Signore è vivo è vivente è all'opera è all'opera questa è una delle cose che noi spreti non pensiamo a insegnare lo diamo per ovvio invece penso che la gente abbia bisogno di sapere che non esiste appena la dottrina di lui i comandi di lui non esiste appena la chiesa come se fosse la chiesa la chiesa è vissuta in appalto la costruzione della salvezza l'impresa della salvezza non è in appalto la chiesa l'operazione salvezza è diretta personalmente da Cristo Signore è risorto è risorto per essere vivente forse dovremmo invece di dire che è risorto il che esprime un'azione che ha compiuto nel passato dovremmo dire Cristo è vivente è vivo è ancora vivo e ciò che l'Apostolo Paolo dice annuncia appena torna al termine della sua meditazione cioè all'inizio della sua predicazione dopo che ha incontrato Cristo sulla vita di Damasco passa due anni in riflessione e poi entra nella vivo della gente annunciando che Cristo è vivo Cristo è vivente non è morto è morto ma è vivo ancora io lo posso testimoniare Cristo è vivo ancora la mia missione pastorale è proprio stata questa un po' mi viene l'esempio tradurre un'immagine mi sovviene da quel libro stupendo quel romanzo splendido mi pare che fosse l'isola del mistero se non sbaglio o l'isola misteriosa mi pare ove un personaggio che arriva in seguito a un naufragio su un'isola passa la prima notte alla ghiaccia poi il mattino appena si sveglia trova pronto la colazione e così ogni mattina così a mezzogiorno così ogni sera e non sa mai non sa chi l'ha preparato non sa chi l'ha preparato questa è la mia testimonianza io trovo che Cristo Signore prepara 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 si muove fai per conto suo a noi gettare chiamare convocare a noi smuovere ma nel frattempo lui opera per conto suo e spesso ci fa trovare di fronte a queste cose stupefacenti e stupefacenti sono cose da strabibbio perché proprio perché a volte ecco lavora nell'innocenza e ci sono delle creature innocenti c'è ancora c'è ancora lo spettacolo dell'innocenza è ancora uno dei tesori grandi della Chiesa questo ed è un gusto personale di lui di Cristo Signore poter presentare le coscienze limpide 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 con la grazia battesimale tuttora intatta e sfolgorante a volte la creatura che ha viso 30, 40, 50 anni c'è da sciagurato dopo lungo o rapido improvviso in richiamo eccolo lì e sembra acquistato una nuova innocenza come se avesse vissuto sempre a contatto con Cristo Signore mentre altri che fedeli per 30, 40 anni poi lasciano il porto e se ne vanno la Chiesa è un porto dove arrivano e vanno arrivano e vanno e il santo diventa peccatore il peccatore diventa santo è un miracolo è una cosa stupefacente la cosa più 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 incredibile è che il Signore chiami te a vedere che cosa sta facendo in confessionale in particolare in confessionale ho assistito questo spettacolo di Dio che chiama la maniera sua di Dio misericordioso che intenerisce che commuove e che usa una benità proprio verso coloro che sembrerebbero fino a ieri più mascalzoni i più spregiatori e a questo punto a questo punto a questo punto quando tu capisci che i gusti di Dio sono questi non puoi più essere non puoi essere più padrone di nessuno non puoi essere metterti a direi a considerarti il guardione di Dio insomma il guardione di Dio e tu capisci che il gusto di lui è proprio questo da allora nasce nel postore con l'accostarsi lento in punto di piedi in punto di piedi sapendo che ogni gesto persino il modo stesso di respirare il fiato per così dire serve a creare un clima fa da voce da richiamo smuove il fondale dell'essere poi sono richiami molte cose che si mettono insieme giocano un'interinfluenza che tu non immagini insomma se questa del pastore del prete ovescovo parroco ovescovo pastore è un degli aspetti più misteriosi perché ci si rende conto tu ti rendi conto prima di tutto che le cose della tua fanciuletta della tua giovinezza sono state previste guidate proprio in vista di alcuni incontri sono degli incontri in cui ti accorgi che ti ricolleghi a quell'evento a quell'evento e sono cose cose che si lasciano così un po' a mezzo a fiato io ricordo di come all'unno del seminario cioè a 12-13 anni quando ero in seminario sentendo raccontare di come verso la fine della prima guerra mondiale prigionieri austriaci chiedevano di confessarsi a Pasqua e non c'era nessun prete che sapesse il tedesco nella mia città e disse a me stesso ma allora se dovesse accadere bisogna che io mi tenga pronto dovrei come non sono in tempo poi passarono anni andando all'università a Roma mi disse allora e mi preparai e così mi buttai sulla lingua tedesca e ricordo che un giorno ero a casa in vacanze bussarono le porte verso le 5 del pomeriggio bussarono la porta della mia stanza entrò un soldato tedesco che era di guardia al ponte al ponte della ferrovia e mi si buttò in ginocchio un uomo sui 45 anni mi disse padre posso confessare e vedi allora il punto da punto a punto il cerchio si chiudeva il cerchio si chiudeva io ci credo queste cose non credo che aprendo il libro subito la prima pagina che apro subito ci sia che cosa no non credo non credo tutto questo non credo alla magia non credo niente però queste cose interiori certe intuizioni certi gusti certe esperienze ci credo ci credo tanto che all'ascito del padre della madre quel respiro quel modo di sentire quel modo di valutare le cose quel bisogno di pace quella soprattutto il convincimento che tanto di quel che si capisce dipende dal come sei di quanto cioè la pulizia della mente sia importante pulizia del cuore e della vita sia importante per il nitore il candore la intuizione la lucidità la lucentezza della mente infine che devo dire infine infine il rapporto con Cristo è certo il momento più forte personale è quando e quando 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 si cede in un mistero c'è bisogno dei misteri certissimamente come c'era dalla messa dove dove sei in posto siete in due siete in due nell'intimità totale dove dove ci si rende conto di essere nella stessa posizione della Madonna della Vergine Madre in un rapporto tu per tu perché nessuno come la madre ha avuto un rapporto così completo di un rapporto di amor carne io stavo per dire di carne di sangue e nello stesso tempo l'amore di adorazione dunque di materno viscerale e adorante insomma nello stesso tempo ora all'altare il prete non è appena colui che poi parla colui che guida la funzione il prete è uno che viene in rapporto personale col signore voler o no è un po' chiamato come i tre lassù nella trasfigurazione insomma e se uno si rende conto che in quel momento te l'hai sotto gli occhi ma lui sai mentre lo guardi ti guarda lo tiene in mano ma lui ti sostiene è colui da cui sei stato chiamato alla vita è colui che ha in mano la tua sorte è colui che poi ti aiuterà in confessionale è colui che ti suggerirà la tenerezza per un bambino la pazienza per una persona magari che ti fa soffrire e soprattutto sarà colui che in punto di morte verrà incontro e ripeterà la morte sua in me certo quando ci si rende conto che poi è il segno è Cristo è il segno è il segno della benevolenza del padre cioè quindi è già la cauzione che abbiamo in mano già la cauzione il voler dire ma perché perché ci è stato dato come cauzione insomma come cauzione e a questo punto allora ci si può fidare ci si può contare e allora ti viene da stupirti non finisce di stupirti che un povero ragazzetto che correva a piedi nudi su quei campi come tutti i ragazzi eccetera adesso si trovi in questa posizione si trovi a vedersi giocato un po' giocato per delle cose più grandi di lui che non avrebbe mai mai immaginato che non avrebbe mai neanche supposti insomma ecco per cui allora mi suggerisce il pensiero di mia madre quando mia madre mi lasciò mi salutò l'ultima volta mentre stavo per partire avevo 11 anni per partire per il seminario mi disse questo vuol dire che ti salverà l'anima e il corpo le espressioni dialettali molto semplici che però per lei volevano dire volevano dire tutto cioè la fortuna la fortuna dell'essere e mettersi nelle mani di Dio lasciarsi guidare da lui ciao ciao